Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini, ancora una puntata di questa nostra trasmissione in diretta, sono le 10, un minuto e una manciata di secondi. I contatti, gli strumenti per mettersi in contatto con noi sono come sempre Whatsapp e mail, per Whatsapp 351 708 9977 e per la mail casarossini-rossinitv.it. A questi contatti attendiamo le vostre segnalazioni richieste, dediche, saluti, messaggi e soprattutto la risposta al sondaggio del giorno. Ci stiamo divertendo molto a proporvi questi temi, naturalmente scherzandoci molto su perché sono temi divisivi ma fino a un certo punto più che altro è la curiosità di sapere chi di voi predilige una o l'altra delle due ipotesi che ogni giorno formuliamo. Oggi le due ipotesi sono dormite con la porta della camera aperta o chiusa, naturalmente come sempre io non mi sbilancio prima, ve lo dirò dopo. Tra l'altro nel fare questa domanda sono andato a fare una ricerchina ho trovato questa immagine particolarmente evocativa e questa particolarmente inquietante. Secondo delle teorie c'è un motivo ben preciso per fare una delle scelte, forse ne parleremo dopo se avremo tempo. Adesso invece andiamo con la scoperta del giorno, oggi è venerdì 5 febbraio, il giorno della pacata eloquenza secondo il nostro libro Personology ed è una giornata molto curiosa, è la giornata dei calzini spaiati. È un'idea nata dai bambini di una scuola primaria a terzo di Aquileia ed è ormai giunta addirittura all'ottava edizione. I calzini spaiati diventano metafora della diversità e del fatto che colore, lunghezza, forma e dimensione non cambiano la natura delle cose. Pur sempre calzini restano. Me l'ha segnalato, anche se poi è una cosa di cui stanno parlando le radio e le televisioni questa mattina, me l'ha segnalato per prima una telespettatrice molto affezionata, Maria da Isola del Piano, che io voglio salutare e con la quale stiamo tra l'altro preparando un progetto importante nell'ambito librario e comunque la saluto e la ringrazio per questa segnalazione. E anche un altro giorno importante, come il giorno dei calzini spaiati, è il World Nutella Day. Nessuna indicazione su questo, c'è poco da aggiungere. È il giorno mondiale della Nutella. Fate voi, decidete voi come festeggiarlo e celebrarlo al meglio. A proposito di celebrazioni, la Chiesa Cattolica celebra Sant'Agata, una giovane vissuta nel III secolo durante il proconsolato di Quinziano. È una santa che è patrona di diverse città, Catania, Gallipoli, Malta e la Repubblica di San Marino. A proposito della Repubblica di San Marino, la prima notizia relativa agli eventi del passato legati a questo giorno è proprio legata alla Repubblica di San Marino. 1740, constatata l'unanimità in favore della Repubblica, Papa Clemente XII, dopo circa un anno di occupazione, definita occupazione alberoniana dal nome del Cardinale Giulio Alberoni, restituisce ufficialmente l'indipendenza a San Marino proprio in questo giorno e non sappiamo se la restituisce in questo giorno perché era il giorno del patrono o se questo giorno, grazie a questo, diventa il giorno del patrono. Però non lo sappiamo, ma approfondite perché, come sempre dico, questi spunti che vi do potrebbero essere degli spunti da andare ad approfondire secondo le vostre diverse curiosità. 1924, siamo sempre al 5 febbraio, il segnale orario dell'osservatorio reale di Greenwich viene trasmesso per la prima volta e a quel punto si decide che quella è l'ora ufficiale dalla quale far dipendere un po' tutte le messe in regola degli orologi di tutto il mondo. Qui vediamo l'osservatorio, qui sono io in una visita molti anni fa all'osservatorio, mi sono messo proprio a metà, vedete, quello è il meridiano, io sono metà da una parte e metà dall'altra del meridiano di Greenwich. 1936 al teatro Rivoli di New York, prima mondiale del film Tempi Moderni di Charlie Chaplin, che tra l'altro evidentemente prediligeva questo 5 febbraio perché nel 1919, sempre il 5 febbraio, insieme a Mary Pickford, Douglas Fairbanks e Griffith aveva fondato e lanciato la United Artists, la casa cinematografica famosa e attiva ancora oggi. Nel 1950, parliamo di televisione, viene ripresa e poi trasmessa per la sola zona di Torino, Juventus-Milan. È la prima partita di campionato di calcio di Serie A della storia della televisione. Volete sapere chi ha vinto? Ha vinto il Milan 7 a 1 in quell'occasione. 1958, questa è una foto e qui c'è anche il Corriere dello Sport che riporta la notizia. 1958, una bomba atomica viene persa dall'aviazione statunitense a largo della costa di Savanne in Georgia. Non verrà mai più recuperata. Questa è una storia molto curiosa. Due aerei si scontrano in volo. Uno dei due sta trasportando una bomba atomica. Il pilota decide che prima di tentare l'atterraggio di fortuna, che poi porta questo risultato, è meglio disfarsi dell'ordigno, fa un giro largo sul mare e la sgancia. La bomba finisce in mare e non viene mai più recuperata. Direte voi, incredibile! E invece scopriamo che non è così incredibile. Succede molto spesso, sono diverse decine, forse centinaia, gli ordigni anche atomici persi qua e là in giro per il mondo e mai più recuperati. Addirittura il Pentagono ha coniato un codice, che adesso quando ve lo dico voi direte, ecco cosa voleva dire, Broken Arrow, che ha ispirato anche un film con John Travolta e Christian Slater. È un film che riporta appunto una storia legata a spionaggio e all'acquisto di bombe perse e cose di questo genere. Il film è di John Woo. Siamo al pensiero del giorno, accendere un fuoco può essere molto più facile che non spegnerlo. Mi sembra quanto mai attuale questa frase per questi giorni un po' strani e particolari. Allora, a questo punto siamo a presentare il primo ospite, ringraziando Gulliver che ci ha dotato di tutto l'arredo del nostro studio. Diamo il benvenuto al professor Alessandro Berti. Professore, buongiorno! Buongiorno a voi! Si è divertito a seguire tutta questa nostra introduzione sulla giornata? Assolutamente, molto interessante. Sono anch'io un amante delle ricorrenze storiche, quindi mi ha fatto piacere essere erudito di alcune cose che non sapevo. Di Sant'Agata lo sapevo, essendo San Marino relativamente vicino a Rimini dove lavoro. Il professor Berti è riminese, ma mi ha spiegato al telefono che praticamente il suo cuore batte nei nostri territori, soprattutto a Urbino dove è professore di tecnica bancaria. E finanza aziendale. Tecnica bancaria e finanza aziendale presso l'Università di Urbino. E' nato il 20 aprile, professore. Noi facciamo un gioco, professore. Oddio, è un brutto giorno perché è nato Adolf Hitler il 20 aprile. Poi per fortuna non è nato solo lui. Non è nato solo lui, è nato anche Jessica Lange, per cui ci siamo. Una gran bella donna. Napoleone III, vabbè, è il giorno della sfida al mondo, dice il nostro librone. Sono definizioni particolari. I nati il 20 aprile hanno delle sviluppatissime doti di leadership. Una forte spinta interiore dirige costantemente verso l'alto questi dinamici individui orientandoli verso la realizzazione degli obiettivi, il successo e il potere. Beh, insomma, non è male. Tra i pregi c'è potente, ispirata e entusiasmante. I difetti da un po' di tempo non li leggiamo più perché abbiamo visto delle facce strane. Anche chi diceva, sì, 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 li voglio sapere. No, 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 è meglio non sapere. Ma poi i difetti li conoscono tutti, quindi è meglio non sapere. All'allievo del professor Giampaoli. Molto vero. Lei ha detto bene prima, io sono molto legato a questi territori, come lo era il mio maestro. Paradossalmente entrambi abbiamo studiato l'Università Cattolica a Milano, a suo tempo Economia e Commercio, e proprio l'essere lui più grande, peraltro, allievo del grande maestro, il professor Confalonieri. Da lì è nata una collaborazione che mi ha portato a insegnare qua nelle Marche e a considerare le Marche sicuramente la mia seconda patria dopo la Romagna, perché le Marche mi hanno accolto, mi hanno voluto bene e non posso che parlare bene delle Marche. Poi a Urbino si sta bene. Urbino si sta bene, siete persone splendide, quindi non posso che volervi bene. È un bel territorio. Allora, tecniche bancarie, questa parte delle sue materie mi ha particolarmente incuriosito, perché noi, naturalmente, comuni mortali, abbiamo con le banche un rapporto molto strano, no? Noi andiamo in banca, portiamo i nostri soldi, quando adesso in questo periodo ci servono, gli chiediamo, ce li danno o non ce li danno, gli interessi. Ci sembra una cosa, come posso dire, un po' aliena, no? Qualcosa che è così, perché è così, lo decidono loro, non si capisce niente. Quelle sono le tecniche bancarie? Le tecniche bancarie, altro non è che la materia è... non è altro che la spiegazione di come si dovrebbe gestire il rischio in banca nelle sue varie sfaccettature. La banca in realtà è un'impresa ed è definita così ormai da molto tempo, dal 1993, quindi sono quasi 30 anni che, perlomeno a norma di legge, dovrebbe essere un'impresa e non un'istituzione pubblica. Lei pensi che prima del 1993 la banca era un servizio pubblico e l'impiegato bancario era un pubblico ufficiale, quindi viaggiavamo proprio su un altro pianeta. La banca è un'impresa, deve rendere al meglio i denari dei risparmiatori e quindi deve cercare anche impieghi adeguati, quindi questo vuol dire cercare di selezionare imprese che siano in gamba, che siano meritevoli. Come dico spesso io quando parlo ai bancari a cui insegno come si fa la valutazione del merito di credito, io svolgo un'attività a metà strada, sono accademico di ruolo ma sono part time e svolgo un'attività professionale di consulenza e formazione. Una delle cose che dico sempre ai bancari è che voi dovete scegliere ma le aziende devono farsi scegliere, cioè le aziende devono saper comunicare e questa cosa, adesso apro e chiudo una velocissima parentesi, è ancora più importante in vista della scadenza del 30 giugno che è l'entrata in vigore degli orientamenti dell'autorità bancaria europea che a mio parere risulterà molto impegnativa per le banche e per le imprese italiane, soprattutto per le imprese perché mentre le banche conoscendo, far virgolette, il loro retro bottega, mi consenta l'espressione, so che si stanno preparando adeguatamente, vedo che il mondo delle imprese digerisce con fatica l'idea che si debbano fare, business plan che si debbano fare e anche quando li aiutiamo nella pratica professionale vedi che sono resti a organizzare il loro lavoro, c'è molto da fare, e poi soprattutto in un territorio come questo che è naturalmente ricco di piccole e medie imprese, una delle cose che ho imparato da 30 anni da quando collaboro con l'Università di Urbino è proprio l'attenzione ai territori e a questo territorio così ricco di PMI, quindi mi auguro che questo lavoro venga portato avanti con convinzione e soprattutto con il desiderio di fare partnership perché senza la patina di cifra banca e imprese non c'è lo sviluppo. Questo che lei ci ha detto un attimo fa di questo cambiamento degli anni 90 non sono riuscito a intuire se per lei è stato un cambiamento positivo o qualcosa di cui potevamo anche fare a meno, cioè il passare da questa idea della banca come istituzione e come istituzione di servizio al passare all'idea invece della banca impresa. Per conto mio è stata un'intuizione positiva, noi abbiamo cambiato la legge bancaria nel 1993 perché ce l'ha fatta cambiare l'Europa che abbiamo recepito una direttiva europea. La banca prima non era gestita come un'impresa, era gestita come un baraccone pubblico di fatto ma la redditività di chi comprava azioni in banca all'epoca era una redditività ridicola, cioè non ti conveniva comprare azioni, rendevano il 2%, quando i BTP rendevano il 13, 14, 15%, quindi per conto mio è stata sicuramente un'innovazione. Poi come sempre il cambio delle regole del gioco non significa che il gioco sarà più bello. Segnatevela questa, segnatevela perché questa è una lezione, il cambio delle regole del gioco non vuol dire che il gioco sarà più bello, questa io me la scriverei da qualche parte. Ma sì, anche perché non si scrive da nessuna parte che si deve giocare a zona anziché a uomo o col 3, 4, 2 anziché qualcosa del genere. L'importante è che tu non abbia nei tacchetti degli aculei avvelenati anziché di essere apposta, poi puoi giocare come ti pare, tutti davanti alla porta, tutti all'attacco. E adesso che da 30 anni questa nuova impostazione viene recepita, a giugno cambia tutto di nuovo? No, a giugno non cambia tutto di nuovo, ma il regolatore... Noi adesso siamo in una crisi molto grave, a mio parere la più grave di tutte quelle che sicuramente dal secolo scorso siamo portati fino a qua. E' sicuramente molto più grave anche di quella del 2008, per quel che mi riguarda. non è che cambi tutto. Viene detto con più precisione quello che alcune banche, quelle più accorte, quelle più attente, già facevano. Cioè le imprese non possono più pensare di presentarsi alle banche con leggerezza, con opacità, con scarsità di informazioni. Le informazioni ci vogliono quello che si chiama il corredo informativo che viene richiesto dalle banche sempre più spesso e le banche devono da questo punto di vista chiederlo e non possono non chiederlo. Quindi le imprese devono darlo e da questo punto di vista è un po' una sfida da parte delle banche e alle imprese per certi versi essere più trasparenti ma io direi anche più costruttive a ragionare sul futuro progettarlo non vuol dire prevederlo ma vuol dire gestirlo cercare di gestire il rischio nota frase di Churchill pianificare è inutile perché non si può prevedere ma serve gestire il rischio. Esatto almeno quello. Almeno quello. Queste intensità di presenza di piccole e medie imprese è proprio su questo tema croce delizia cioè da una parte diciamo sono come posso dire famiglie spesso o piccoli gruppi di soci che vivono della loro impresa e di conseguenza si pensa che ci tengano forse più di qualcun altro che magari la vede un po' più da distante l'attività e magari in una impresa grande potrebbero esserci tanti filtri attraverso dalla proprietà poi alla destinazione finale però dall'altra vuol dire anche un po' di improvvisazione questo era il discorso di prima sulla necessità di far capire l'importanza del business plan e cose di questo genere. sicuramente l'improvvisazione ma più che altro direi in moltissimi casi una sorta di quasi superficialità ho sentito tante volte frasi tipo ma ti ho dato le garanzie cos'altro vuoi oppure frasi assurde del tipo da parte di imprenditori se vuoi il bilancio te lo vai a prendere in camera di commercio non si costruisce la partnership in questo modo c'è molto da lavorare poi che ci sia da lavorare anche per farsi capire una delle cose che io dico spesso quando un'impresa mi chiama è se noi non capiamo come siamo messi noi è un po' fatica che pretendiamo che ci capiscano bene coloro che ci devono leggere che devono leggere i nostri piani che devono leggere quello che facciamo per poi decidere di darci dei soldi anziché no quindi da questo punto di vista il lavoro da fare sulla io la chiamo comunicazione finanziaria è un lavoro tosto è un lavoro pesante è un lavoro che ci porterà via sicuramente quest'anno è un anno criticissimo ma poi anche in futuro lei tenga conto che in quest'anno salvo naturalmente errori omissioni o cambiamenti entra anche in vigore definitivamente il coso delle crisi d'impresa e adesso non è il caso che io vi tedi su questo argomento vi tedio già abbastanza con questo che vi sto dicendo no è quello che ci sta dicendo è importante perché ci fa capire una cosa cioè il suo intervento va a costruire un rapporto sostanzialmente per cui si rivolge da una parte a chi opera all'interno delle banche dando strumenti di tecnica bancaria sia a quelli che entreranno a lavorarci ma anche a quelli se ho capito bene che già ci lavorano e dall'altra comunque anche nelle imprese in modo da creare una base di linguaggio comune altrimenti non ci si capisce sono d'accordo con lei insegniamo ai bancari a valutare il rischio di impresa e lo facciamo in tutta Italia dico io i miei colleghi con cui lavoro ma anche aiutiamo le imprese a farsi capire ad autovalutarsi qualche volta anche ad allargarsi a comprare altre imprese o a fare scelte di investimento di crescita di sviluppo abbiamo avuto da questo punto di vista qui delle sorprese bellissime noi siamo come punto operativo di riferimento a Rimini dove sicuramente evidentemente la cultura imprenditoriale prevalente è quella turistica dove però c'è tantissima vitalità da un punto di vista di idee nuove che sono da incanalare che sono da formalizzare che sono da comunicare meglio ecco io trovo che il tema prossimo venturo sia quello della comunicazione finanziaria fra banche e imprese su questo discorso della comunicazione e in generale della formazione arriva come un macigno ovviamente il covid che da una parte muove tutto un discorso di soldi per capirci sul quale adesso lasciamo un attimo da parte così lo lasciamo un attimo da parte dall'altra invece si muove tutto un discorso di necessità di comunicare a distanza per cui sia con gli studenti sia con le imprese tutto questo discorso della didattica a distanza colpisce anche voi nell'ambito vostro e soprattutto come l'avete affrontato se vi colpisce sì indubbiamente siamo dovuti ci siamo dovuti acconciare per dire così a una didattica che non faceva parte della nostra cultura perché negli anni in tutti questi anni da quando lavoriamo professionalmente con banche con imprese abbiamo sempre costruito rapporti in presenza e rapporti importanti anche di amicalità di cordialità la didattica a distanza ti impone di saper forare il video in un modo differente di essere più conciso di usare strumenti differenti quindi è una sfida io credo che come in tutte le cose che cambiano vada visto anche il positivo anche se ovviamente mi auguro io per primo di ritornare in presenza a fare le cose poi la presenza nelle aule di quelle cose che non non è pagabile da nessuna parcella non c'è non c'è fattura che ti ripaghi di situazioni rapporti umani relazioni conoscenze le posso dire che la didattica a distanza però ha dato una grandissima spinta alla digitalizzazione all'innovazione e su moltissime cose credo che non si tornerà più indietro perché perché è giusto così poi su altre evidentemente ci vuole la presenza immagino certe riunioni fatte facendo muovere da dieci posti d'italia dieci persone che si devono trovare semplicemente magari per vedersi per un'ora forse quelle si è capito che non serviva assolutamente sono d'accordo con lei in tante altre situazioni invece dove tutto nasce dallo scambio reciproco da uno scambio quello che io chiamo anche il scambio di energie che funziona invece è necessario assolutamente ristabilirle io penso al pubblico a casa che in questo momento dice ma loro parlano di banche mi è arrivata la lettera l'altro giorno la mia banca ha cambiato tutto questo movimento di compravendite di banche posso fargliela come domanda cioè a cosa porta? le bocchie di quello che vuole se posso rispondo ma porterà sicuramente a una concentrazione del sistema bancario che è già in corso che sta già avvenendo dovuta sicuramente un po' all'ammutamento di ambiente di clima è in un mondo dove i piccoli fanno fatica a sopravvivere è inevitabile mettersi insieme e un po' è dovuto al fatto che c'è una oggettivamente sempre più spessa congerie di regole da rispettare che comporta quelli che chiamiamo costi di compliance i costi di compliance cioè i costi di conformità mentre diventano sostenibili su grandi masse amministrate quindi su imprese su grandi imprese bancarie che hanno tanti sportelli tanti dipendenti tanti volumi diventano difficilmente sopportabili da piccole banche grazie al cielo per esempio nelle Marche ci sono tante banche di credito cooperativo che si sono messe insieme sono il gruppo bancario Icrea qualcuna è andata con l'altro gruppo bancario però da questo punto di vista anche le piccole banche a mio parere in questo momento riescono ancora le banche locale le banche del territorio tanto cara il mio maestro Giampaoli le BCC riescono a mantenersi fedeli alla loro missione e nonostante questo mettersi insieme per cercare di mettere a fattore comune alcune cose credo che dovremmo avere anche naturalmente clienti più attenti un po' più di educazione finanziaria non guasterebbe è uno dei motivi per cui lavoriamo è anche questo certo e questo è anche uno dei motivi per cui l'abbiamo invitata qua in modo da far arrivare questo messaggio anche a casa perché naturalmente ricordiamo ancora il professor Berti ha una parte legata all'attività accademica e una parte legata invece all'attività privatistica di formatore concentriamoci un attimo su questo in modo da far arrivare a casa anche qual è al di là del discorso accademico l'attività che può interessare anche loro non lo so io mi occupo di rapporti banchi impresa e di pianificazione economico finanziaria di impresa quindi mi occupo di aiutare le imprese a farsi finanziare dalle banche ma anche le banche a valutare meglio le imprese che finanzi quindi il nostro lavoro è di spiegare di fare formazione ai dipendenti bancari in materia di valutazione del merito di credito e quando è possibile anche in impresa cercare di aiutare l'imprenditore a essere meno come dire così improvvisato ed estemporano essere un po' più formale dove essere formale non vuol dire evidentemente essere meno cordiale o avere rapporti meno intensi vuol dire semplicemente sapere che quello che conta sono i numeri a partire dai numeri bisogna cercare anzitutto questa è una cosa che agli imprenditori non mi stancherò mai di dirlo fare il passo più lungo dalla gamba fa male gettare il cuo oltre l'ostacolo per poi andare oltre l'ostacolo e non trovare più il cuore è un guaio e quindi ecco questo è quello che cerchiamo di fare di fare in modo che non ci siano degli strappi e che ci sia comprensione reciproca fra banche e imprese è un lavoro importante perché non c'è la cultura del business plan quando noi ci mettiamo ad aiutare il cliente a fare il business plan vediamo la difficoltà prima di tutto culturale poi tecnica però è un grande lavoro e ci piace ci piace farlo si parte dalla raccolta della documentazione assolutamente poi bisogna confrontarsi tanto mi conosci serve assolutamente serve tutto servono molte più cose di quelle che sembra viene recepito come si sta muovendo un po' il nostro territorio su questo il vostro territorio non è diverso da altri secondo me va fatto ancora un lavoro grosso di comunicazione io per esempio ho avuto modo di partecipare di recente a un'iniziativa molto importante fatta dalla BCC del Metauro in collaborazione con l'università ma c'è ancora molto da fare quindi mi auguro che le banche ma anche le associazioni di categoria vogliano informare e poi soprattutto proporre offrire strumenti ci sono tanti modi per lavorare da questo punto di vista rispetto al privato privato singolo è un cielo nuvoloso che corre sopra e che un giorno si diraderà oppure influisce anche sull'attività del correntista che usa il conto corrente per pagare guardi il correntista in questo momento secondo me è un correntista che si deve abituare all'idea che il conto corrente non è più uno strumento finanziario per far rendere i denari ma è un modo per usarlo il denaro devi incominciare a pensare a investire perché come peraltro era già in paesi molto diversi dal nostro l'Inghilterra la Francia la Germania il conto corrente non era uno strumento di investimento era uno strumento di servizi credo che il correntista doveva cominciare a ragionare in questo modo su tutto il resto io sono un noto stimatore di Mario Draghi e quindi mi auguro che la sua chiamata come riserva della Repubblica a entrare in campo ci aiuti anche il consumatore sul discorso del risparmio che diventa investimento avevamo fatto anche due accenni con il direttore di Banca di Pesaro con il dottor Benedetti che diceva appunto questo salto che è anche ancora una volta anche se purtroppo sembra un luogo comune un salto culturale cioè dall'idea di dire i soldi stanno lì e li lascio lì che tanto lì stanno bene come meglio meglio di lì non stanno da nessuna parte invece a dire comincio a ragionare però è un lavoro è un lavoro culturale il direttore della Banca di Pesaro è stato un mio allievo e lo saluto volentieri se per caso non credo perché da questo dovrebbe lavorare ma magari mi ascolti in un altro momento lo saluto volentieri è un caro amico oltre che un allievo sicuramente c'è da fare un grosso lavoro culturale di preparazione non a caso sia Consoba sia Banca d'Italia hanno fatto iniziative sul tema dell'educazione finanziaria le stanno facendo i colleghi di tante università del mio raggruppamento scientifico disciplinare ci sarà sicuramente molto 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 da fare Se qualcuno volesse rintracciarla da casa e prendersi un appunto per poter parlare con lei e magari affrontare il tema dal punto di vista professionale della formazione Se qualcuno vuole scrivermi la mail è quella dell'Università di Urbino alessandro.berti chiocciolouniurb.it dove mi potete scrivere o mi scrivono tutti e sarò lieto di rispondere a chiunque volesse farmi domande o rivolgermi in questione Bene Abbiamo concluso a meno che lei non abbia nel più accademico degli esami la domanda piacere Se lei me ne vuole fare una volentieri La domanda è piacere C'è un argomento di cui voglio assolutamente parlare ai telespettatori di Rossini TV In un minuto In un minuto Guardi le faccio solo una cosa che mi fa piacere questa occasione che mi avete dato la domanda a piacere è cosa penso che possa succedere ad essi in avanti se me lo chiedi io le dico anche se toccato il fondo si può sempre scavare che è una battutaccia che bisogna ricordarsela sempre io credo che possiamo solo che migliorare dato quello che è successo e credo che il mestiere di ognuno di noi adesso sia farle bene il proprio lavoro farlo al meglio possibile questo non dico che ci salverà ma sicuramente ci aiuterà a uscire da questa situazione di difficoltà volevo anche ringraziarvi per avermi invitato Perbacco grazie a lei per essere stato con noi siamo certi che a casa avremo aperto degli ambiti curiosi diversi e nuovi sicuramente nell'ambito di tutto quello che raccontiamo ogni mattina ai nostri telespettatori siamo nella pausa siamo alla pausa pubblicitaria ringraziamo il professor Berti per essere stato con noi siamo alla pausa pubblicitaria dopo saremo di nuovo qua naturalmente con il prossimo ospite che è Moreno Mordoni il segretario provinciale CNA di Pesaro Urbino naturalmente restate con noi eccoci qua allora l'avevamo preannunciato siamo con il secondo ospite Moreno Bordoni buongiorno Moreno buongiorno Paolo grazie del gentile invito e un saluto a tutti gli amici di Rossini TV grazie a te per essere qui con noi oggi però la affrontiamo in maniera diversa Moreno Bordoni è il segretario provinciale della CNA però abbiamo concordato di cominciare in un modo un po' diverso andiamo a conoscere un po' il personaggio perché poi Moreno è molto conosciuto a Pesaro e naturalmente vogliamo un po' approfondire andiamo a vedere allora dovremmo trovarci la data di nascita dell'11 agosto giusto? esatto e allora come ogni tanto facciamo l'abbiamo fatto anche col professor Berti per cui lo facciamo anche con te andiamo a scoprire che l'11 agosto che è il giorno della rivelazione non so cosa vuol dire ma qui ogni giorno ha una sua specifica in questo giorno è nata anche Barbara Bouchet e Alex Halley lo scrittore statunitense è quello che ha scritto Radici per intenderci e i nati l'11 agosto sono animati da un forte desiderio di rivelare la verità e si avvertono anche in maniera del tutto naturale il lato oscuro della vita e gli eventuali argomenti che mettono in imbarazzo gli altri questo dopo va avanti se vuoi te lo lascio da sbirciare perché va avanti ah no c'erano anche i pregi aspetta i pregi che sono la causa più divertente in cerca della verità potente e penetrante vedi per il ruolo che ricopri insomma è perfetto ma noi oggi vogliamo parlare un po' così di noi della tua vita innanzitutto auguri a Luca giusto? esattamente oggi mio figlio fa 11 anni quindi approfitto anche della vostra ospitalità per fare gli auguri in diretta lui è a scuola però magari gli faccio vedere la replica è a scuola perché loro hanno ripreso regolarmente lui fa la quinta elementare quindi lui ha sempre fatto scuola in presenza fortunatamente quindi sotto questo aspetto siamo fortunati i regali già da stamattina sono cominciati un po' e un po' arriveranno nel pomeriggio quindi manteniamo un riservo esatto diluiamo un pochino appunto non diciamo niente anche perché queste feste in questo periodo sono un po' limitate non si può fare la festa con gli amici insomma almeno la rimediamo in casa insomma in famiglia sì purtroppo la pandemia ci costringe così a limitare questi contatti che invece sono bellissimi di vita quotidiana con gli amici con i compagni di scuola con i compagni di sport speriamo che sia l'ultimo compleanno vissuto in questa maniera ecco però dai cerchiamo di rimediare e alla fine penso che sarà comunque una bella giornata certo 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 e a proposito di compagni di sport entriamo in uno degli argomenti di cui avevamo pensato di parlare i pulcini della vis hai cominciato addirittura con i pulcini della vis e poi sei andato avanti con una carriera calcistica di rilievo insomma diciamo che la mia vita è stata accompagnata dallo sport da sempre io avevo un nonno paterno molto appassionato di calcio mio padre molto appassionato di calcio tra l'altro lui ha anche giocato a pallone io e mio fratello abbiamo giocato io dai pulcini fino all'esordio in prima squadra ricordo un esordio anche in Coppa Italia in Serie C di un riccione Vispesaro quindi la mia è stata davvero un'infanzia è un'adolescenza vissuta molto dedicata al calcio alla Vispesaro ovviamente sei arrivato fino a giocare proprio seriamente in prima squadra dopo con un ruolo importante sì dopo ho fatto una scelta anche mia di approfondire gli studi mi sono laureato però la passione per il calcio è continuata anche se due gravissimi infortuni durante la mia carriera mi hanno quasi inconsapevolmente quando parli di questo grati il ginocchio tra l'altro proprio il ginocchio destro è stato quello infortunato gravemente io nel 1998 ruppi la rotula e il tendine rotuleo distacco della rotula e del tendine rotuleo dopo cinque anni nella stessa gamba un altro gravissimo infortunio il tendine d'Achille quindi il buon Dio mi mandò dei segnali ben precisi che il calcio era ora di guardarlo in televisione era ora di guardarlo in televisione oppure di occuparsene come stai facendo adesso nel ruolo di dirigente del calcio a 5 per esempio sì questa è una passione che è nata negli ultimi anni una passione molto importante anche molto bella che sto vivendo e condividendo con la famiglia perché alle partite vengono anche mia moglie mia figlia ovviamente Luca che tra l'altro gioca nelle giovanili dell'Ital Service quindi una bellissima esperienza è uno sport che ho conosciuto tardi nella mia vita ma che mi ha appassionato e che mi ha fatto anche mi ha dato l'opportunità di conoscere persone straordinarie negli ultimi anni stiamo vivendo con l'Ital Service davvero come una grande famiglia delle soddisfazioni enormi ed è stato uno di quelle cose sai che ti servono nella vita impegnato nel lavoro poi considera che io sono diventato segretario provinciale probabilmente negli anni più duri dell'economia del nostro paese e anche le difficoltà della nostra associazione quindi avere anche uno sfogo che ti permette di avere questa passione e un pensiero positivo un qualcosa che durante il giorno magari ti può far staccare un attimo è una cosa che mi è servita molto e mi dà anche molta gioia e poi siamo nella città giusta l'Ital Service è una delle squadre più importanti d'Europa dico bene? sì siamo una delle realtà in questo momento più importanti d'Europa ci giochiamo come ogni anno tutti i titoli in Italia quindi una bella soddisfazione perché è una realtà nata dalla passione di un imprenditore illuminato come Lorenzo Pizza la sua famiglia che è riuscito a trasferire questa modalità vincente che lui ha nell'azienda anche nella nostra squadra davvero la gestisce come una grande famiglia ma però questo non vuol dire che pecchiamo in professionalità in scelte strategiche che alla fine nelle società fanno la differenza e nello sport uguale d'altra parte un imprenditore importante come Pizza probabilmente trasporta la sua esperienza da imprenditore anche nella gestione di una società sportiva sì tra l'altro Lorenzo quest'anno è stato insignito del premio di cittadino dell'anno cittadino di Pesaro quindi voglio dire è un imprenditore di grande successo e gli imprenditori una delle doti principali che io li conosco quotidianamente li frequento adesso ci arriviamo ci arriviamo gli imprenditori quelli di successo hanno quella visione a lungo a lungo termine che magari ad altri ad altri manca e questo spesso fa la differenza nelle scelte strategiche che poi dopo vediamo tutti i giorni sul campo questo sia nell'impresa che nello sport e lo sport è difficile essere presidente di una società sportiva in questo momento con gli sponsor che hanno difficoltà per la pandemia con il pubblico che ovviamente non può vedere le partite quindi anche i minori introiti è molto molto difficile però noi devo dire la verità abbiamo una società solida che ci sta continuando a dare soddisfazione prima di parlare poi anche della tua attività ho dato una scorsa agli appunti mi accorgo di aver saltato due cose importanti i figli sono due per cui non facciamo torto all'altro assolutamente Sofia che quest'anno farà 13 anni lei è la primogenita esatto per cui non facciamo torto a Sofia e poi l'altra cosa riguardava il nome la cosa divertente sul nome questo nome moreno così particolare e così atipico soprattutto per le nostre zone un nome più caratteristico della Toscana che tuo padre l'ha scelto e all'inizio insomma non è che l'avessi digerito poi tanto bene ma considera questo il nome è stato fortemente evoluto da mia nonna paterna mio padre è originario di Cupramontana provincia di Ancuna e anche se con mia madre già vivevano a Pesaro per le tradizioni che c'erano una volta mi hanno fatto nascere a Cupramontana quindi io nella carta indita è nato a Cupramontana pur avendo vissuto tutta la mia vita a Pesaro e all'inizio sinceramente io a Pesaro di bambini che si chiamasse Moreno non ne conoscevo e scuole elementari già alle medie un vicino di casa si chiamava nella stessa maniera poi ho iniziato a conoscere qualcuno perché pensavo di essere non dico quasi solo io ma effettivamente poi considera che ho un fratello che si chiama Marco quindi ha il nome più comune del mondo è questa cosa qui però devo dire la verità poi passando gli anni l'ho vissuta molto bene perché uno chiama Marco si girano 300 persone invece quando chiamano Moreno effettivamente vogliono me e penso a Pesaro di essere solo io che non Moreno Bordoni in questa maniera così come anche nelle ricerche che si fanno su Google è molto più facile trovarmi sono sempre in prima fila rispetto a questo alla fine si è rivelato un grande pregio e devo dire a distanza di tanti anni che mia nonna ci ha visto giusto sarà stata lungimirantissima vedi soprattutto per questo ruolo adesso qui entriamo un po' anche siamo già quasi in conclusione però l'avevamo concordato di dedicare un po' di tempo alla conoscenza della persona che è una delle cose che ci piace di più fare in questa trasmissione però naturalmente non possiamo dimenticare il discorso di CNA del suo ruolo di internazionalizzazione del suo ruolo soprattutto nell'ambito della moda insomma parliamo anche in questo caso di qualcosa di particolare di speciale non facciamo magari un discorso generale sulle imprese sulle difficoltà che hanno eccetera che ovviamente è un discorso che si può fare in ogni momento e che tutti possono fare invece con voi il punto chiave di CNA è appunto questo sì considera che fra pochi giorni saranno otto anni che sono alla guida di questa grandissima associazione quindi da un lato ho tanto onore sono molto orgoglioso di questo ma me la sento tutta la responsabilità di avere traghettato in questi anni difficili un'associazione la più importante della nostra provincia in un momento davvero difficile io negli anni ho mantenuto due specializzazioni molto forti come hai detto giustamente da un lato l'internazionalizzazione che mi ha sempre appassionato e infatti proprio per queste mie professionalità da quattro anni sono anche il rappresentante in Italia della Camera di Commercio e dell'Industria Nazionale Bielorussa e poi da tantissimi anni seguo il settore della moda queste due skills me le sono mantenute perché davvero le ritengo molto importanti in questo momento negli ultimi anni anche nel nostro territorio i dati costantemente positivi derivano dall'export per le imprese che rappresentiamo è un momento così difficile come la pandemia che insomma ti inibisce tutti i viaggi all'estero la possibilità di partecipare in presenza delle fiere insomma sono momenti molto duri che magari con queste mie professionalità con questi miei rapporti che ho ormai con tutta Europa riusciamo magari a sopperire con alcuni progetti alcune modalità la moda mi è entrata nel cuore da quando ho ideato CNA e dei Moda 13 edizioni meravigliose di quella che era diventata in Italia la sfilata live collettiva più importante del nostro paese purtroppo l'anno scorso e forse anche quest'anno è a rischio per i motivi pandemici speriamo comunque di poterla ripresentare perché è una cosa parcheggiata in stand by non è certo chiusa certo anche perché viveva un momento come tutte le cose che hanno longevità di evoluzione cioè le cose che durano parecchio o a un certo punto stancano e vanno a chiudersi oppure continuano a evolversi sempre di più era un momento di evoluzione poi è arrivata questa interruzione d'altra parte è una di quelle attività impensabili nasce per essere live è impensabile proporla in modo alternativo sì ci abbiamo pensato però in realtà avremmo snaturato quella che è il vero cuore di questa manifestazione il pubblico grande presenza la bellezza di poter presentare marchi internazionali e marchi locali però al cittadino che magari viene a Pesaro o nella nostra provincia anche in vacanza e che ha la possibilità di vedere un evento che era diventato anche con i personaggi che hanno partecipato in questi anni davvero un evento top ne parlavano le televisioni tutto il gruppo Mediaset che è stato con noi partner per tantissime edizioni quindi voglio dire penso che sia più giusto tenerla in stand by e poterla riproporre ai massimi livelli con una grande run 3 quando si potrà perché io mi aspetto che dalla seconda parte di quest'anno le cose davvero possano migliorare abbiamo bisogno anche di pensare è positiva abbiamo bisogno di entusiasmo abbiamo bisogno di credere che il rimbalzo emotivo che sicuramente avremo potrà essere anche un rimbalzo economico perché ci sarà quell'entusiasmo che in questo anno davvero orribile molti parlano di anno economico orribile se io parlo di anno cancellato perché per molte attività si parla di un anno cancellato e quindi mi auguro che ci sia davvero un rimbalzo emotivo importante che possa anche poi insomma riverberare questa potenza nell'economia perché il nostro territorio immagino che avrete comunque mantenuto tutti i rapporti con tutti gli interlocutori dall'altro lato come viene interpretata la situazione cioè sono tutti d'accordo sull'idea aspettiamo e ripartiamo oppure c'è qualcuno un po' più demoralizzato un anno di stand by è molto duro non parliamo di un mese due mesi parliamo di un anno quindi da un lato c'è grande voglia comunque di ripartire grande voglia di dimostrare che ce la possiamo fare certo è che le difficoltà sono state tante dai ristori che non sono stati sufficienti dalla impossibilità di lavorare i nostri imprenditori in fin dei conti non è che chiedono l'eemosina chiedono di essere messi nelle condizioni di fare il proprio lavoro poi ci pensano loro è per quello che mi aspetto un rimbalzo emotivo barra economico importante perché questa è la base vera anche del nostro territorio considera che siamo nella provincia più artigiana d'Italia ogni nove cittadini ce n'è uno che ha deciso di intraprendere e questa percentuale non è diminuita in questo anno orribile quindi fa parte delle nostre radici è davvero un know-how quello che abbiamo noi sull'imprenditorialità che ha insomma che ha nella storia la sua valenza e la sua cultura forte quindi io sotto questo aspetto voglio dare anche un segnale di ottimismo come dire abbiamo bisogno di poter credere che appena ci sarà una insomma indennità come la chiamano questa copertura vaccinale che ci possa dare questa copertura di gregge che non mi piace questa immunità di gregge in realtà non è bello però quando avremo la capacità di poter diciamo dire di aver sconfitto il virus e quindi di poterci muovere di poter tornare alle fiere in presenza perché considera Paolo che ancora per la prima parte dell'anno in tutto il mondo nessuna fiera è prevista in presenza e questo è un dato che noi insomma anche economicamente accusiamo e quindi io spero che quando avremo la possibilità di dire abbiamo sconfitto in larga parte il virus quindi riprenderà fortemente anche la capacità dei nostri imprenditori di fare la differenza come si resista la tentazione di dire non si può fare niente non facciamo niente parlo a livello proprio vostro di organizzazione di associazione di categoria e comunque di organizzazione così strutturata perché la tentazione è forte non si può fare niente vabbè noi siamo qui aspettiamo come si resiste questa è una bella domanda che fortunatamente non mi sono mai posto nel senso dall'inizio dell'emergenza abbiamo aiutato prima gli imprenditori a decifrare i dpcm che arrivavano una volta ogni 15 giorni cambiavano le carte in tavola quindi capire chi e come poteva lavorare cercare di aiutare le persone a capire bene la propria attività da un lato se poteva lavorare e da un lato come se avesse potuto lavorare come renderla sicura con tutti i dispositivi necessari poi abbiamo supportato le imprese nella richiesta di tutte le domande per gli ammortizzatori sociali da un lato per i propri dipendenti ma anche di tutti i ristori che sono stati previsti perché anche se non economicamente impattanti per le nostre aziende burocraticamente lo erano ci abbiamo pensato noi così come la possibilità che gli abbiamo messo in campo di non perdere contatti anche internazionali con webinar dedicati con tutta una serie di situazioni che hanno secondo me davvero fatto capire all'imprenditore che nel momento più duro della sua vita imprenditoriale la CNA c'era quindi non ho avuto il tempo di pensare a quello che tu mi hai chiesto perché siamo stati in trincea con loro in maniera anche molto orgogliosa lo voglio ribadire e questo c'è stato anche riconosciuto come premio da tantissimi imprenditori abbiamo avuto in questi mesi tantissime manifestazioni di affetto e anche insomma quelle cose che quando lavori a testa bassa non ci pensi ma ogni tanto ti fanno piacere quella pacca nella spalla che è un po' il senso anche del lavoro che è il nostro lavoro tu rappresenti gli imprenditori è facile rappresentarli nel momento in cui tutto va bene va tutto a gonfie vele io penso che invece un'associazione faccia la differenza in questi momenti alla CNA devo dire la verità non potrei dire altrimenti la guido con orgoglio sono orgoglioso di essere il segretario di questa grande associazione e devo dire che noi abbiamo fatto la nostra parte bene se non hai anche tu la domanda piacere noi il tempo l'abbiamo concluso è concluso benissimo io sono molto contento di avere dato questo taglio grazie alla tua complicità perché poi ne avevamo parlato a questa nostra ospitata a questo nostro intervento io ci tengo a ringraziare invece te Paolo per la tua professionalità ma anche per il tuo modo di accogliere gli ospiti sono stato molto a mio agio sono stato contento di aver dato anche un taglio diverso perché penso che dietro a un ruolo anche istituzionale ci sia sempre una persona che valga la pena di essere conosciuta io con i miei pregi e i miei difetti che i miei amici lo sanno sono così come vi ho raccontato sono contento di essere qui ringrazio Rossini TV e di nuovo rinnovo gli saluti a tutti gli amici che ci stanno seguendo torneremo allora a invitarti per parlare di viaggi per parlare di tante cose soprattutto quando poi le cose si evolveranno e adesso abbiamo concluso anche questa seconda parte della nostra puntata prima di andare con la terza ospite che è Paola Pierangeli Tittarelli con la quale parleremo di feste e di Roff e non solo parleremo un po' della sua vita magnifica diamo il risultato del sondaggio eccolo qua Allegra puntualissimo mi porta il risultato del sondaggio che era dormite con la porta aperta o chiusa e pare che il 33% dorma con la porta aperta ma il 67% dorma con la porta chiusa c'è un motivo anche come posso dire un consiglio che viene dato dal web che dice che conviene dormire con la porta chiusa anche perché in caso di incendio il fumo arriva meno e poi si ha più tempo io dormo con la porta aperta pazienza tra l'altro con una casa quasi tutta di legno per cui vabbè se una mattina non mi vedete sapete cosa è successo inoltre ringraziamo tutte le persone che ci seguono dai nostri social in particolare Simone Alessio Giorgia Sonia e invitiamo cantanti artisti musicisti che abbiano realizzato dei video dei bei video musicali a contattarci perché li trasmetteremo in questo spazio che riserviamo ai video musicali prodotti da artisti del territorio salutando di nuovo Moreno Bordoni lancio il video che quest'oggi è Lo spazio invisibile di Davide Pagnini il cognome lo conoscete e lo riconoscete buona visione e fra un po' ci vediamo con Paola Pierangeli Titarelli Tappati le orecchie e prova ad ascoltare il battito del cuore quando sarai sola potrebbe farti un po' di compagnia siamo gli abitanti di un futuro costruito da qualcuno venuto dal passato ed ora questo abbraccio è un briciolo di vita che rende la tua vita un briciolo di cose è l'effetto che mi fai quando giro nel mio letto e non trovo più nessuno da abbracciare è l'effetto che mi fai quando voglio stare male e mi uccido piano per dimenticare c'è uno spazio invisibile che lega l'impossibile chiamandolo amore chiamandolo amore è un amore invisibile che nega l'impossibile salvando noi due noi due noi due noi due e certe parole non servono a niente ed ora potrei ma non so cosa dire nel vuoto mi perdo non so respirare ma tu del silenzio sai fare un dipinto ed ora mi salvi padrona del tempo guardiamoci ancora ancora una volta ma tanto lo so è visione distorta è l'effetto che mi fai quando giro nel mio letto e non trovo più nessuno da abbracciare è l'effetto che mi fai quando voglio stare male e mi uccido piano per dimenticare c'è uno spazio invisibile che nega l'impossibile chiamandolo amore chiamandolo amore è un amore invisibile che nega l'impossibile salvando noi due noi due noi due chiamandolo amore i mi uccidini chiamandolo amore ho Consumiamoli qui, i tuoi occhi di cera, candele d'inferno, fiori di primavera, consumiamoli qui, i tuoi occhi di cera, candele d'inferno, fiori di primavera, consumiamoli qui, i tuoi occhi di cera, candele d'inferno. Fiori di primavera Ed eccoci allora, siamo con la signora Paola Pierangeli Tittarelli Buongiorno, buongiorno signora, benvenuta qui a Rossini TV alla nostra casa Rossini Grazie di avermi chiamato L'abbiamo chiamata, naturalmente, oltre che perché, naturalmente lei è conosciutissima in città e anche dai nostri telespettatori che hanno realizzato diversi speciali in occasione delle sue famose feste anche proprio per raccontarci un po' della sua vita Paola Pierangeli Tittarelli, presidente dell'associazione Amici del Rov, tanto per cominciare ma soprattutto animatrice di queste straordinarie feste che da 40 anni accompagnano il Rossini Opera Festival Mi dica Come è nata l'idea, per esempio, di queste feste? L'idea è cominciata da Gianfranco Mariotti Dunque, un giorno mi telefona e mi fa Paola, mi sei tanto cara, simpatica, ti faccio un regalo e avevo vicino mio marito e dico, quale regalo? Abbiamo, facciamo l'hotello, di Rossini, l'hotello, abbiamo delle grosse personalità, tu ci farai la festa Io, grazie, grazie, e mio marito, ma chi ringratti? Mariotti, ma perché lo ringratti? Perché mi ha detto che devo fare una gran festa, che devo mettere i tendoni E per me è un gran piacere, mio marito diceva, ma sei proprio il colbo, sei te che ringratti invece di Mariotti Però Gianfranco Mariotti sapeva che lo chiedeva la persona giusta Perché lo chiedeva una persona che ha una tradizione, ha avuto sempre una tradizione di musica di altissimo livello in famiglia da sempre, mi diceva Sì, ma poi, insomma, tramite il festival l'ho conosciuto tante persone Ho lavorato molto, sono stata molto in cucina, ma non rimpiango niente perché, insomma, agosto in cucina non è tanto divertente Però non rimpiango niente E quella festa l'ho data E siccome avevamo messo le tende E quell'estate pioveva sempre A mezzanotte chiamavo mio marito E diceva, Rolando, per carità, leviamo l'acqua dalle tende che crollano E mio marito dice, vengo, però, a mezzanotte, in punto, devi chiamare Mariotti e ringraziarlo ancora dell'estate che stiamo passando Ecco, da quello ho cominciato a fare le feste Suo marito l'ha sempre seguita in tutte queste cose Mio marito, sì, perché amava la musica Docente universitario Amavamo anche Mariotti, oltre alla musica Lui, docente universitario importante, direttore della clinica oculistica di Ancona Però appassionato di musica Molto, e poi è stato nel consiglio mio marito Nel consiglio vari anni Esatto, della fondazione Per cui, insomma, sicuramente Siete la coppia giusta No, 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 sì, eravamo la coppia giusta La coppia giusta a cui Mariotti Poteva rivolgersi per chiedere Però non c'è solo questo, perché c'è una tradizione in famiglia Legata alla musica Sì, sì, perché mio padre era appassionatissimo di musica E mio nonno era un direttore d'orchestra Al colon di Buenos Aires E quindi, insomma, mio padre Mi ricordo ancora che la mattina alle sei Metteva verdi, cortigiani Verrata dannata Mentre io dormivo beatamente Sono nati in un ambiente musicale A me, difatti Io vado anche a Santa Cecilia, a Roma, eccetera Però a me piace l'opera Mi diceva che ha avuto per tutti questi anni Abbonamenti in tutti i teatri In tutti i teatri A Bologna A Bologna Andavo a Macerata Quando c'era Pitti Sempre a Macerata Ancona ho fatto le feste come a Pesaro Perché Ancona ho una casa vicina al teatro E quindi venivano da me i cantanti Così, sì Ma tutti quelli che partecipano alle feste Lo sanno che mangiano cose che sono cucinate in persona Sì, lo sanno ormai Anche perché All'inizio, siccome mi vedono Insomma che faccio Sono una donna un po' mondana Pensano che io non sappia stare in cucina Però gli stessi camerieri Dicevano Guardi che ha fatto tutto alla signora Paola Difatti quando mi vedono i camerieri Mi vedono travestita da cuoca Dopo dieci minuti vado Mi pitturo Eccetera E quindi sono pronta per le feste Ci siamo sentiti con la signora Paola Al telefono Un po' per capire un po' Che filo conduttore dare Anche se poi improvviseremo sicuramente tantissimo A questa puntata E lei mi diceva che ha provato A delegare qualcun altro A cucinare qualcosa Però non funziona Ma anche mia figlia è stata nel consiglio Fino a poco tempo fa Mia figlia Mia figlia Prosegue la mia Attività a Roma Certo No ma dicevo sul fatto della cucina Ah la cucina Lei ha provato a farsi aiutare in cucina Ma poi alla fine Sì no no Perché facevo i gnocchi Beh li buttavano Se li spappolavano tutti Allora Sì ma la cucina mi diverte Adesso un po' meno Perché è l'età Immagino Immagino la fatica Più che altro Perché è proprio una fatica fisica Non è una cosa Pace d'estate Sì Sì Però dopo i risultati E poi io ho due piatti Che faccio quasi solo io Ho uno stampo di rame Che ci metto dentro 150-200 uova A seconda delle persone che ho E poi il maialino Il maialino Famoso Che cuocio al forno a legna No quello lo cuoce il mio giardiniere Devo dire Ah meno male Ecco quello lo cuoce il mio giardiniere Beh però la preparazione è sua La preparazione Il fiore in bocca No il fiore nell'orecchia Il limone in bocca Insomma io lavoro ma ho tante soddisfazioni E poi mi piace stare nell'ambiente musicale E queste feste l'hanno praticamente resa Filo conduttore di tutta la storia del ROF Io credo Spero Certo Spero Al punto da aver realizzato una festa Anche quest'anno nel 2020 No L'anno in cui Altro che una festa È più di una Quattro cinque Quattro cinque feste Anche nel 2020 L'anno in cui il ROF è stato realizzato In maniera virtuale Cioè senza pubblico E allora chi veniva Di fatti il sindaco mi ha ringraziato Eh ci credo Ma a queste feste chi ha partecipato Visto che non c'era il pubblico alle opere Alle opere Adesso sai che non mi ricordo Veniva probabilmente I musicisti Pitti Pitti Luigi Pitti Adesso in questo momento Non mi ricordo Che quest'estate Che è venuto il sindaco Anche con la moglie Molto carina Comunque sicuramente Quando lei lancia la proposta Di una festa Il seguito Anzi Io non faccio più le prime Perché l'ultima volta Abbiamo avuto 500 persone E allora mio marito Era Ha detto adesso basta Di fare queste cose Perché un giorno o l'altro Ci invadono la casa Comunque ho conosciuto Persone deliziose Di cui sono diventata amica Per esempio Pierluigi Pitti Anche ancora Gli ho fatto tante Di quelle serate Pierluigi Pitti Perché Pierluigi Pitti Amico mio Florez Amico mio Pappano Che è molto amico Di mia figlia Ma anche amico mio Sono andata a Londra A vederlo A sentirlo Michele Mariotti Uomo delizioso Direttore bravissimo Ma anche umanamente È una persona Eccezionale L'ho visto anche a Roma C'è una casa piccola A Roma Ho fatto una serata Per Michele Mariotti Invece a Londra A caccia A Londra Con Pappano Perché mia figlia Amicissima Proprio di Pappano E anche io Perché ci raccontiamo Le barzellette Una sera a Londra Siamo stati Fino alle tre di notte A raccontarci Le barzellette Anche con Florez Fino alle tre di notte E quindi Ho creato dei rapporti Non formali Certo Dei rapporti veri La parte bella è quella Poi ho avuto Anche questa cosa bella Ero molto amica Di Peter Moore Sì Che ci ha invitato A Londra A caccia E mio marito Era un appassionato Di caccia Siamo andati Alle cacciate Però alle prime volte Non riuscivo A prendere un fagiano Io mi vergognavo Dopo Dopo Invece Insomma Le altre volte L'atmosfera 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 Bellissimo Le zuppe L'atmosfera Io stavo sempre vicino A Peter Moore C'era una vallata E guardavo mio marito Che era in fondo Con un berretto Che non riusciva Allora dopo Per risollevare L'onore della famiglia Ho chiamato a caccia A mio genero Che invece è bravissimo E ha ucciso Tutti gli uccelli Ha fatto la strage E Peter Più arrabbiato Non l'ha più invitato Esatto E sì perché gli ha fatto La strage della riserva Praticamente Poi Cagli Grande uomo Amico di mio padre Perché mio padre Aveva fatto venire Sia Gosset Che Cagli Per l'edizione critica Sì Un marito Delizioso E dei figli Mia figlia Che vede a Roma Fa quello che faccio io Certo Sì Mia figlia Sempre Ha sempre a cena Gatti Pappano E poi lei Sponsorizza Sia la Santa Cecilia Poi anche Come si chiama Fortes Simpaticissimo Fortes Immagino che L'arrivo della pandemia Sia stato vissuto Come un momento Un po' difficile Anche se poi Come dico Le attività sono andate avanti Però hanno scolto Non avevamo paura Ho letto da qualche parte Che lei era cortina Durante il periodo Più stringente Il periodo Sola Sola Io che sono abituato A stare in compagnia Perché a cortina Tutte le mie amiche Veneto Avevano una paura Terribile Certo E quindi Molto sola Perché poi c'è una casa Avevo un cameriere Che mi teneva il muso Perché voleva ritornare No Non è stato un bel periodo Immagino Immagino Anche perché In effetti Cioè Il posto era bello Il posto era bello Ma le patizzate Solitarie Senza compagnia Insomma Si vive Era meglio con un bel giovanotto Esatto Si vive un po' In maniera Se avessi avuto un bel giovanotto Forse Già Poteva essere Un motivo piacevole Insomma Di essere lì E di essere lì A cortina Insomma Allora Questo ROF Quest'anno Si farà? Io Se non Non c'è più la pandemia Certo E io ho visto che adesso L'assessore Vimini Ha diffuso Un comunicato stampa Nel quale si parla già Di date precise Mi sono preso anche l'appunto Date precise Dal Dal 9 al 22 agosto Suddiviso tra Vitri Frigo Arena Ma io farò la prova Mi sembra Vitri Frigo Arena Teatro Rossini E poi c'è questo galà Per l'inaugurazione Dell'auditorium Scavolini Per il 22 agosto Ecco voglio parlare La bravura di Scavolini Vogliamo dire Ah certo Per Pesaro Scavolini è stato Un grande uomo Insomma Certo Perché Perché ha collaborato Certo Ha collaborato attivamente A tutte le attività culturali E le attività sportive Lui ha capito L'importanza Di avere il ROF A Pedro Perché è intelligente Certo Certo Hai capito Certo Invece molti Non l'hanno capito Il ROF Diciamo che forse Da una parte Della cittadinanza È stato Osteggiato Ma più che osteggiato Interpretato come qualcosa Di strano È per altri Invece negli ultimi anni Credo che questa cosa Questa Come posso dire Questo avvicinamento Alla città Si è avuto Soprattutto con le edizioni Quelle dove ci sono state Proiettate le opere in piazza Insomma Ringraziamo Mariotti Per il festival Sì È stato un grande uomo Sicuramente sempre L'idea e l'intuizione È stata straordinaria E io ho fatto queste cose Anche proprio per la simpatia Che avevo per Mariotti Perché È una persona che merita molto Ecco Ricordiamoci Certo Adesso siamo a una doppia prova Perché abbiamo da una parte La pandemia che incombe E che speriamo si dissolva E permetta di realizzare L'off Dall'altra c'è da completare Questo nuovissimo Auditorium Scavolini Che è l'ex palazzetto Dello sport di Viale Marconi Nel quale tra l'altro In passato si erano tenute Delle opere Che in questi giorni È al rush finale Di una fase di ristrutturazione Questa è una cosa importante Avere al centro della città Averla lì è importantissimo Io mi ricordo i primi anni Che era al centro Le opere erano al centro Si vedeva a Pesaro Con tutte queste persone eleganti Che giravano per la città Insomma Pesaro Dopo quando siamo andati Al palavitri Insomma è stata una cosa bella Però meno interessante C'era questa cosa particolare Delle fermate della navetta Con queste persone elegantissime Alla fermata dell'autobus Si è vero E anche i giapponesi Nei loro costumi tipici Eccetera Alla fermata dell'autobus Che facevano particolarmente Agosto Pesaro è bella Pesaro è bella sempre E sempre Però agosto In particolare Con tutto il movimento che crea Io guardi che tengo la villa Che è ciò che mi costa un sacco di soldi Ah ti credo Per il festival Pensi un po' Io la tengo Perché c'ho casa anche in Ancona Quella però è la famosa villa Quella che suo padre aveva Destinato Nella sua testa A idee Legate all'arte Alla cultura No mio padre no Non è quello Io ho avuto la villa E casualmente L'ho destinata a una cosa Che a mio padre Sarebbe piaciuto Ecco per cui Non era nelle intenzioni Però lei è sicura Che gli sarebbe piaciuto Questo uso Molto 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 Ma mio padre Mi ricordo che una volta È stato male Doveva andare a sentire La calla Se si è sentito male E alla prima cosa Che ha detto al dottore Mi rimetta Mi rimetta in sesto Perché io non posso Perdere la calla Cioè mio padre Era uno che sentiva l'opera Quasi tutti i giorni Capito Certo E mia madre Che era un po' più frivoletta Faceva Wolframo Ma invece nell'opera Non si potrebbe Suonare un foxtrot Un foxtrot Un pezzo di Sanremo Che ne sono Un pezzo di Sanremo Ricordiamo che stiamo parlando Del presidente della provincia Del presidente della fondazione Rossini Fondatore della Picca Cioè stiamo parlando Di uno dei personaggi Che ha creato La storia della nostra città Del nostro territorio Certo Certo Questo va ricordato Per qualcuno Che magari Fosse distratto E non se lo ricordasse Insomma Wolframo Garangeli Molto di sinistra Anche troppo per me Molto di sinistra In una città come questa Ci stava però Sì Nella nostra città Aveva un senso Ha un senso Eh sì Poi a casa mia Di fatti Di fatti ho visto E' una città Di fatti ho visto Entrare tanta gente Che valeva Togliatti No mai Ma nei Garvil Terracini Certo Venivano a cena Pranto A casa mia Allora un quarto d'ora L'abbiamo visto L'abbiamo visto con la pandemia Quest'idea di oggi sì domani chissà Ormai è una cosa che ha a fare Io sono così contenta di aver Draghi Guarda Io questa notte ho dormito tranquilla Bene Perché insomma Mi sembra che la situazione vada migliorando Ce lo auguriamo tutti Siamo nella fase dei colloqui Non possiamo che tutti augurarci questo Allora noi abbiamo Vorrei dire anche che una Che è stata bravissima per Pedro La Silvana Ratti Certo Avremo anche lei Avremo anche lei prossimamente E ascolteremo anche da lei Un po' di aneddoti e storie Sì sì Perché è molto amica mia E molto brava Ci sentiamo quasi tutti Certamente Allora intanto la salutiamo E le diamo appuntamento Alla signora Ratti Le diamo appuntamento Qui in una delle prossime puntate Ringraziamo lei C'è un omaggio per lei Dalla nostra Allegra La nostra Allegra Che meraviglia Avevo proprio bisogno dei fiori Per casa mia Guarda Perfetto E i pulipari sono i miei fiori preferiti E allora ci abbiamo veramente preso Siamo veramente contenti di questo Grazie Noi siamo ancora a ringraziare Paola Pierangeli Titarelli Che è stata con noi Insieme a Moreno Bordoni Che l'ha preceduta Segretario provinciale della CNA Alessandro Berti Professore universitario E formatore Con il quale abbiamo aperto La puntata di oggi Una puntata veramente scintillante Che a questo punto Si conclude Non mi sono dimenticato niente Verro Ali? Niente Non mi sono dimenticato niente Allora ancora grazie Grazie a voi E spero di ritornare Vuol dire che sono viva Se ritorno Sicuramente Sicuramente Grazie ancora a tutti i telespettatori Per essere stati con noi Ci vediamo Con le dirette Lunedì prossimo E con tutte le repliche Agli orari consueti Di Casa Rossini Ma tanto voi Lo so già Restate sempre In visione Dei programmi di Rossini TV Grazie a tutti Buon fine settimana Grazie